AUGURI! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale Guarda quanti son gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te Auguri, 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 buon anno nuovo Finalmente il 2014 Un anno tutto da ricominciare, tutto da ridisegnare, tutto da ricolorare Ci pensate che bello? Allora, per chi ha vissuto un anno... Allora è tutto nuovo, quindi è tutto possibile Coraggio, non perdete le speranze perché molto spesso basta sorridere perché la vita migliori Quando non è possibile, basta mettercela tutta Quando non è possibile, basta avere fede Io sono con voi e vi mando tanta, tanta, tanta positività Invece per chi l'anno l'ha avuto bello, basta che ricopi i colori dell'anno scorso Semplice no? Beh, comunque in qualunque caso io vi dico grazie per l'anno trascorso insieme, l'anno passato Che è stato un anno stupendo trascorso in vostra compagnia Spero mi teniate compagnia anche in quest'anno nuovo Arte per te Continuerà il suo viaggio su YouTube E vi accompagnerà, spero, se vorrete, per tutto il 2014 Me lo auguro almeno Sono contenta che questo nuovo anno si è iniziato Ho tante idee in cantiere per voi Quindi gli ultimi scampoli di festeggiamento Adesso cercavo darvi, poi ci sarà l'epifania E poi Arte per te ritornerà con la sua programmazione lineare e normale I suoi video sia seri che meno seri Per i grandi e per i piccoli Insomma, al solito, Arte per te e Ombretta vi aspettano sempre qua In questo giorno io, Gabriele, Enzino, Buclé Vi facciamo i nostri migliori auguri Che l'anno nuovo sia portatore di tutto quello che più desiderate Non lo dico tanto per dire Secondo me questo è l'augurio più bello che si possa fare Mando un bacio a tutti quelli che hanno avuto un brutto 2013 E mi auguro per loro che il 2014 sia migliore Ne sono sicura che sarà migliore E spero che Arte per te migliori ulteriormente Il trascorrere del vostro 2014 Non vi tengo oltre Mi sono solamente affacciata nella vostra casetta Per dirvi auguri Vi voglio bene Anche in questo 2014 Ve ne vorrò sempre Grazie per essere sempre qui A farmi compagnia A dare un senso a questo mio cianciare E vi rimando al prossimo video Il primo video del 2014 Da Ombretta e da Arte per te è tutto Auguri a voi e alle vostre famiglie Divertitevi e festeggiate E brindate anche alla mia salute Io lo farò alla vostra Alla prossima